l'alchimia quindi è un percorso evolutivo un percorso di trasformazione diciamo anche di raggiungimento di un certo equilibrio si è fatto sempre dire le parti sporche della casa con i prodotti giusti che non facciano male quindi non è che io prendo la roba la butto in un'altra stanza e poi quella puzza di più no l'alchimista sa davvero pulire la casa interiore ok e scopre che rettificandola pulendola scopre gli ori scopre i titoli scopre i talenti e e là ce la rinasce la cioè mentre sta nella morte nell'in nella cenere delle polveri delle cose oscure quando va a fare pulizia con un certo tipo di qualità animica amore sospensione giudizio amore condizionato eccetera mentre vede va a fare pulizia vede rinasce mentre muore una parte di stessa rinasce la nuova quindi è un processo continuo evolutivo di raffinazione che poi ha un impatto molecolare cellulare ovviamente il discorso si ampia moltissimo e ha a che fare anche con la corporeità con tutti i corpi sia fisico eterico astrale mentale e quindi animico diciamo nella coppia la cura è totale e olistica l'energizzazione la raffinazione è magica la coppia perché nella coppia si possono sperimentare tutti i ruoli evolutivi tutti i ruoli umani tutti nessuno scuso questo meriterebbe già solo questo un seminario a parte cioè noi una delle virtù più grandi che i maghi gli sciamani sanno l'arte più grande di interpretare se stessi come un attore che cambia personaggio cioè quel quello che sa che qua siamo l'energia che muove questo pensiero no e può trasformarsi non sono il nome cognome ecco questa è la e la qualità più grande che uno può imparare a fare esercitare con disinvoltura la neutralità dalla neutralità spostarsi e poter essere padre madre figlio qualunque cosa albero nuvola che si tratta di entanglement quindi tecniche vere io ho presi nello sciamanesimo ma adesso ci sono anche altre possibilità cioè entra in risonanza con una parte di te perché tu sei una cosa unica questa interconnessione cioè bisogna solo collegarsi con la nuvola con la tua compagna bisogna solo sapersi collegare stare lì in quella risonanza nel momento in cui lo fai stai quindi agendo una parte della divinità con quel personaggio lo stai facendo pienamente però sapendo di essere poter essere ben altro quando devi smettere con la maschera la dismetti e nella nella coppia mentre tra fratelli tra amici tra padre e figlio non si possono fare degli scambi di ruoli fino a un certo punto si possono fare tra nella nella coppia alchemica si possono fare tutti gli scambi di ruoli cioè lì può fare da madre scoprire la sua maternità agendola su di me e viceversa senza creare scompensi anzi se una madre invece fa la figlia col figlio sta creando grandi ferite se invece come maghi alchimisti in coppia lo fai scientemente sapendo che non è che lei fa la bambina e io faccio il padre della coppia no ma lo posso fare al bisogno in cui lei ha bisogno di sentirsi bambina con un padre posso esercitare la mia paternità e coprire la sua e viceversa è una magia che si può fare solo in coppia ripeto questa cosa non so se non stato chiaro meriterebbe molto spazio ma è proprio il l'alcova dell'alchimista del mago grazie a tutti